Ciao a tutti! Oggi eseguirò un brano a cui sono molto legato e che dedico ad una persona veramente speciale per me. Parlo della mia fidanzata Giulia Privitera. Il brano che eseguirò è una mia composizione che ho terminato giusto qualche giorno fa di scrivere ed è scritta proprio per lei, dedicata e ispirata a lei. Neanche lei sa in realtà che avrei suonato questo pezzo, infatti una sorpresa per lei. Il brano praticamente un po' racconta quello che è lei con la sua velocità frizzante, la nascita del nostro amore, un suo periodo difficile e la rinascita e il ritorno a quello che è lei con la sua velocità frizzante, più forte di prima con una nuova luce. Dunque, di Ruben Micheli, Giulie. Buon ascolto! Alla prossima! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.